io vedo sbilluccicare sul fondo è buona Paolo no mi sta trollando siete già in onda nuovo video totalmente a caso allora è funzionata più o meno così siamo nel post produzione del video collezione lo riconoscerete ha viaggiato nel tempo per noi signori e mentre sta caricando il video mentre sta facendo roba ma si apriamo un pacchetto ma si apriamolo un altro non ci è piaciuto andiamo avanti questo è quello che è successo e la cosa sta continuando quindi abbiamo detto fermiamoci un attimo vediamo a che punto siamo arrivati e magari facciamo un mini video allora qui abbiamo aperto 5 pacchetti di legami inossidabili e per ora abbiamo trovato poi con Zolo poi con Zolo Snorlaxolo Likitung Venomot Butterfree normali e poi abbiamo le nostre 5 reverse quindi è 2000 comuni quindi fondamentalmente non ci è andata benissimo poi siamo passati che abbiamo ritrovato nei magazzini di Paolo perché per chi non lo sapesse Paolo ha un negozio e uno di quei pusher giusti fatti pubblicità dite che negozionare lo 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 dite anche su youtube seguite il canale lo devo dire lo conosco da 20 anni perché non approfittare di Paolo quindi abbiamo trovato nei magazzini una bustina di uragano plasma però anche qui signori non ci è andata benissimo scavando sempre nei magazzini una bustina di furie e volanti abbiamo trovato sì un drago ma non oro e poi abbiamo trovato anche un ultimo pacchetto di sole e luna con reverse e però la rara tra l'altro se vedete se si vede in camera chiediamo al camera è leggermente rigata ma era proprio nel pacchetto già fatta così quindi per ora non ci è andata benissimo posso dare un piccolo nota tecnica secondo me quando le imbustano in questo formato hanno un macchinario che le passa con due rotelle probabilmente le va a rovinare in impacchettamento diciamo nel doppio impacchettamento secondo me per quello che alcune sono rovinate quindi personalmente mi sento di sconsigliare leggermente di comprarle in questo formato ma di andare più su quei box che vengono aperti per essere divenduti il mio parere invece è che io comunque in questi pacchetti ho sempre una sfiga allucinante dunque se oggi non troviamo niente neanche in questi è ufficiale che in questi pacchetti non si trova niente allora andiamo a togliere la carta da tutti e quattro vai 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 ma si ma ma apriamo subito bello che hai detto ma si dai le tiro fuori magari le soglioni ne apriamo una ne apriamo una tanto per poi quello che esce esce le altre le mettiamo in venta che poi rimaste poi sono arrivati è arrivato lui ma io sono peggio in realtà solo che è lui in questo momento in questo momento il malato sono io allora apriamo il primo pacchetto di ombre infocate ne abbiamo quattro oggi niente doppia telecamera ma siamo così in un video che non ci aspettavamo faccio il trick a tre non mi ricordo se è giusto o sbagliato vediamolo insieme la prima volta che faccio al contrario lo spacchettamento allora no penso di aver sbagliato il trick dunque ok era quattro perché cambia dalle dizioni allora qui abbiamo una reverse e sotto uuuuh dai ragazzi il ripario rollo va bene il ripario rollo lo accetto buono buono dai il ripario rollo va bene perché andrei peggio sì non potrebbe sicuramente andare peggio codicino regalo dai codicino regalo ma sì di lirio ormai quanti ti lascio già il codicino per il regalo di dopo andiamo dopo 1 2 3 4 ripario rollo vedi che stavolta il trick ti è uscito perché è quattro ma perché cambia d'impresa d'edizione io vedo sbrinducicare sul fondo porca troppo porca troppo devi stare più attento devi stare più attento raiorn reverse è buona Paolo è buona è buona è molto buona sì cazzo è buona la piegata no 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 signori ma meno male che abbiamo fatto questo video è un allenatore allora tra l'altro tanta tanta roba tanta tanta roba fulano guarda che bella è la prima carta buona che trovo mamma mia che trovo messo da lontano sembra Paolo di Narnia tipo adesso mi risulteranno taglia pure video verità non si taglia nulla vediamo codicetto dai quello di prima dai due tre quattro mamma mia ragazzi bene 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 devo fare più video a caso di questi perché non è che ogni volta che apri un pacchetto faccio un video però poi quando non fai video c'è la roba buona ovvio guarda guarda cawe va bene l'accetto l'accetto perché quella di prima è ancora dolce in bocca diciamo posso trovare nulla anche qua che va bene quella di prima devi stare attento quando le apri perché ho visto chi vuole brillare non ci credo sì no mi sta trollando mi stai trollando dimmi aprirle con più calma ma io non ho visto niente ma io non ho visto niente ho l'occhio cinico ma cosa ti vuol dire hai l'occhio cinico cinico vabbè l'occhio cinico dai ha l'occhio cinico ragazzi tu hai visto questa no vedi tu hai visto la reversa no ho visto la reversa l'occhio cinico accannato va bene mi hai illuso tocca a te tocca a te spacchettare in mezzo a questo casino ci possiamo fare abbiamo due pacchetti con il dicino regalo dai con il dicino regalo uno con il dicino regalo due dai via diamo le due e via via possiamo stare abbiamo due pacchetti giochi di squadra te che sei un esperto quindi girai trick a tre o trick a quattro siamo trick a quattro a quattro tre erano edizioni abbastanza vecchie allora così i pacchetti hanno il potere di decomporsi subito appena li apri una volta si chiedevano ma allora buttiamo via questa quindi uno due tre quattro io dico erba mancata vai via gold duck oh la reverse poi dice me sto vedendo la reverse c'è ragione scusa non sono abituato come te di pazienza io vado di solito vado direttamente a quella quindi ormai vabbè ormai sei vista quindi pj night dai poteva andare ma abbiamo ancora una ce l'hai di te l'hai per te no lo stavamo buttando signori lo stavamo buttando lo stavamo buttando questo l'abbiamo già dato no lo diamo vediamo come si decompone questo pacchetto decomposto biodegradabili signori stiamo pure io spero in una carta alleato dai codicetto carta alleato uno due tre quattro fuoco aspetta aspetta che si vede come prima fire wow sta delirando wow non si è visto non si è visto niente tranquillo non si è visto niente non si è visto niente c'è qualcosa qua può stare di tutto e qua l'attenzione no ragazzi guarda che gioco di scuola ci sono delle belle carte dentro no però brilla brilla chi se ne frega di erica chi se ne frega siiii guarda 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 guardiamo se ne è pieno saor ci x bene 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 video a caso con tanto disordine che però ha pagato Anche questa è andata, è andata bene, 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 prossimo video, alla prossima! Sempre nuovi video! Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook! Perfetto!